Ho vinto il concorso nazionale con Gatto Panceri ed lo trovate già sul web e sarà il prossimo farà parte del prossimo lavoro discografico io sto preparando il mio terzo lavoro discografico quindi speriamo che anche i ragazzi ci tengo a precisare che anche i ragazzi quest'anno vedranno la realizzazione del loro primo lavoro discografico io come Accademia mi sono impegnata come classe di canto mi sono impegnata a far uscire per Natale quest'album che conterrà tutti i brani cantati dai ragazzi quindi anche un applauso per questo progetto che Fabio Ciacci mi sta appoggiando il mio produttore mi sta appoggiando quindi ragazzi andiamoci da fare perché a Natale ci deve essere questo regalo sotto all'albero il vostro primo disco ok? Sei pronta? Sarei pronta Sarei pronta Angela Ruggero Grazie Kelly Sarei pronta Grazie